Siamo ad Arezzo, siamo presso AISA Impianti e siamo in compagnia dell'ingegner Marzio Lasagni. L'inserimento dell'automatizzazione, l'inserimento dell'informatica in un'impresa e in questa impresa in particolare. Secondo te quali concreti benefici, se vuoi anche economici, ha portato in AISA Impianti? Tanto la prima cosa, l'informatizzazione è un dovere di un'azienda, anche se nell'immediato può non sembrare un beneficio economico o ovviamente può comportare delle difficoltà gestionali ed organizzative, perché ovviamente ogni novità crea ovviamente doversi rimettere in gioco per tutti i dipendenti dell'azienda. Però è fondamentale per due motivi. Primo per un discorso economico, in quanto vi dà la possibilità di un grosso risparmio di risorse umane. Dall'altra parte un altro grande vantaggio permette di ridurre al minimo l'errore. Una volta che la procedura è stata fatta bene, l'errore sparisce. Meglio ancora, se vi è qualcosa di nuovo, non si lascia alla libera iniziativa, ma viene codificato, cioè il sistema si ferma e chiede informazioni, fino a che non vi è qualcuno adeguatamente formato che gliele dà. Questo è un qualcosa che vale per tutti i livelli dell'impianto, per tutti i settori produttivi, non solo per la pesa, in cui ovviamente è stato un risparmio di carta di personale impressionante, ma anche per tutti i sistemi di automazione. L'informatizzazione e l'automazione sono alla base di un impianto che vuole continuare a vivere negli anni futuri.